Vincenzo Galia, Master 35, remitade, bilanciare da menti e bumper da 15, di là uguale, che sia diverso, sbarra l'atleta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 minuto a 10 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, vai! dai Jimmy aumenta un filo dai 2.20 adesso trami puti 2.20 3.20 Grazie. 1 2 3 Ancora un minuto. 4 Dai, dai, dai. 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 20 Secondi. Dai, Jimmy, dai. 10 5 4 3 2 1 Stop. Buono. 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10